Castelfranco blindata con discrezione da questa mattina per la camera ardente di Tina Anselmi, la statista trevigiana scomparsa il primo novembre all'età di 89 anni. Oggi in tanti si sono recati nella chiesetta di Cristorea, lato del Duomo di Castelfranco, per rendere l'ultimo saluto a questa donna che la storia italiana già ricorda come la prima quota rosa in un governo della Repubblica Italiana. Ministro del Lavoro e della Salute, come si diceva al tempo Tina Anselmi, sarà ricordata per aver istituito il Servizio Sanitario Nazionale e la tutela della gravidanza nel mondo del lavoro. Domani alle 15.30 i funerali in una Castelfranco listata lutto e controllata palmo a palmo dalle forze dell'ordine che già oggi hanno provveduto a bonificare tutta l'area entro le mura. Il cerimoniale dovrebbe domani partecipare il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, quindi hanno un cerimoniale e delle procedure che hanno insinato con delle bonifiche ambientali, ma insomma nulla di particolare. Previsto il passaggio anche del Premier Renzi nella serata di oggi. Come voi potete vedere è presidiato dalle forze dell'ordine centro storico e siamo in accordo con la Prefettura e la Questura. Non credo ci saranno particolari problemi per l'arrivo del Presidente del Consiglio. Chiusura anticipata del mercato per domani e transito vietato in centro storico per tutta la giornata fino alle 18. Questi provvedimenti presi dal Sindaco che parteciperà con politici e rappresentanti della Marca e del Veneto alle esecue ufficiate dal Vescovo di Treviso, Monsignor Gardin. Al termine Tina Anselmi verrà tumulata nel cimitero cittadino, mentre da più parti già si chiede l'intitolazione di una strada o meglio della biblioteca comunale.